come vedete questo che abbiamo streaming mi auguro che funzioni tutto perfettamente almeno così mi è stato detto principalmente non abbiamo avuto molti modi di approfondire vorrei capire una cosa mi è pervenuto con la convocazione non ho capito bene lo chiedo al consigliere Galati se sono degli emendamenti oppure delle proposte modifiche come già precedentemente presentate quelle allegate al nostro modifiche sto facendo riprese lei non può riprendere, non l'ha autorizzata a riprendere, chi l'ha autorizzata a riprendere? non si può lei è il signor Cristofanelli, io le ho già risposto che non l'ha autorizzata a riprendere riprese perché lei sta facendo riprese, non avendo alcuna opzione ma quella è streaming, questa è una lei è uguale, non può fare nessun tipo di ripresa, non lo può fare, non è autorizzata a farlo lei è autorizzata a farlo la sua risposta non l'ho scusca, allora la lega, non può leggere soltanto la domanda e poi non legge la risposta no no io ho riprendita risposta, lei non è autorizzata a riprendere ah ho capito, e pensavo che solo affrescati fossero bolshevici, vabbè non è problema grazie 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 grazie